Caratterizzata da linee essenziali, Highlight Glass si integra totalmente nello stile architettonico della tua cucina con un'installazione a filo con il soffitto. Il pannello in vetro bianco cela il potente e silenzioso sistema di aspirazione che garantisce ottime prestazioni anche a notevole distanza dal piano cottura. Highlight Glass è studiata per soddisfare tutte le esigenze architettoniche. Oltre alla versione H30 che garantisce le massime prestazioni con un livello minimo di rumore, soli 53 dba alla massima velocità, sono disponibili anche le versioni super compatte H16 ideali per controsoffitti di altezza ridotta o no motor nel caso in cui si voglia collocare il motore in un'altra posizione rispetto alla cappa. La funzione Tune White permette di modulare il tono dell'illuminazione, da un bianco caldo al bianco freddo, delle due strip led potenti ed efficienti. Il dim light invece ne regola l'intensità, consentendoci di uniformare la luce della cappa a quella della cucina, creando l'atmosfera più adatta alle proprie esigenze. L'installazione della cappa può essere completata con elementi di illuminazione aggiuntivi, controllabili direttamente dal telecomando. Tutte le funzioni della cappa sono controllabili attraverso lo Smart Remote Control, pratico radiocomando dal design semplice che offre il massimo comfort di utilizzo. Highlight Glass è dotata del sistema brevettato Super Easy Installation, che rende le operazioni di installazione facili e veloci ed è convertibile in modalità filtrante tramite l'apposito kit accessorio. Disponibili i Long Life Filters High Performance, che garantiscono un'efficienza di filtraggio dell'80% e sono rigenerabili in lavastoviglie fino a tre anni. Highlight Glass dal design elegante e discreto, protagonista della nostra cucina.